Hello guys, io sono DaviRocket96 Oggi siamo qua insieme a Tozzo su Rocket League A provare a fare qualcosa di decente A che se non ci riusciremo mai Però vabbè Avviamo, avviamo, veloce Una 2vs2 Raga dopo di questa proviamo una canestro C'è un costo E una canestro Già secondo me Perdiamo quella normale, la canestra si sfasciano I boglioni Raga come potete vedere ho l'auto nuova Ho scambiata per la Endo Che avevo detto che c'avevo Ho scambiata per la Endo, questa auto in effetti sono molto felice Perchè con questa neanche Riesco anche a driblare meglio A scartare Con la Endo la riuscivo Perchè era troppo tonda Questa qua è più piatta Raga la mappa dei cinesi con coronavirus mi porta Sfiga tantissimo Ma Ah ok siamo team contro team Raga noi siamo negli scorsi d'Italia Nelle bancali verdi Solo che se Tozzo non entra Tozzo sei l'ultimo E non mi entra Ah sta cercando un altro giocatore a parte te lo sai Mi ha trovato un altro giocatore con cui giocare Lei è uscito Non può Non è competiti Grazie Dio Ma perchè Ma poi non è senso scusami eh Se io vabbè Comunque raga Prima di fare questo video abbiamo fatto due partite Per riscaldarci E anche tutte quelle due partite erano team contro team È raro trovare team contro team eh C'è due persone che sono di un team E due persone che sono nell'altro team È raro A noi è capitato tre volte di chi là Se fossimo così fortunati Anche nelle partite normali solo che nelle team Perchè alla fine li abbiamo vinte tutte e due A una li abbiamo fatti quittare perchè Gli abbiamo fatto i gol della vita Tu ci sei centrato sì Noi siamo negli scarsi d'Italia Come vedete sopra il nome mio Sì Eh raga lo so sto laggando tantissimo Non ho ben capito per il motivo Però comunque raga guardate che bello Anche le ruote Intanto lo sapevo che tozzo segnava quindi Gli ho fatto vedere un po' l'auto perchè lo sapevo Che l'avrebbe segnato Raga vedete che mi lagga Perchè gli ha dato? Perchè gli ha dato? Chi? Chi ha la fennec? No ha la fennec C'ha la fennec! No dimmi che gioca Giocano entrambi da play Quindi chiunque dei due sia Raga io la desidero La amo la fennec Io potrei dare tutte Tutte le mie auto potrei dare per tutte Tutte quelle che mi fa scambiare le darei tutte Anche questa qua che La fennec No mi scrive Trade Cannec please Come si scrive? E' la mia macchina preferita My favorite car My Favorite car No Si si sto giocando Ma what? Cosa ha fatto quel tipo volando? Tutto eh Raga lo dovete sapere che una volta uno ho provato a truffarmi Mi ha detto Se ci fate vincere la partita erano competitive No Sono una raga sono scarsissimo Ehm Vi diamo la Ti do la fennec Eravamo in due Io e mio amico E quindi ho detto Va bene Tanto Competitive Non le gioco tanto Non è come me fregasse troppo Ma quindi ho detto va bene Per la mia auto preferita Volentieri Non so raga cosa ho fatto adesso E' E' praticamente sto qua Ha provato a truffarmi Cioè mi diceva Prima tu mi dai quella Perché lui voleva La Ferrari Quella la raga E' si chiama Animus GP quella Praticamente lui voleva quella Sì Paga vai Bravo Aspetta eh Momento Raga momento critico Ehm niente Non avevo boost Manco 12 Pure quelli da 12 mi fregano Aspettate raga Non parlo un attimo Esatto Vai Eh scusa tozzo Va bene Tira Non Sì Com Eh tozzo e mezzo Ho fatto una minchiata Intanto avevo fatto una minchiata Ehm Raga Praticamente mi diceva Prima tu mi dai la tua auto Poi io ti do la mia Cioè Io gli davo la mia Quello che voleva lui Era che io gli davo la mia Uscivamo dallo scambio Rientravamo in un altro scambio E lui mi dava la tua E lui gli ho detto E lui gli ho detto chiaramente di no E lui gli ho detto chiaramente di no Poi io dopo Poi Dopo un po' Ehm Perché mi voleva truffare Gli ho detto bye bye Io Ehm Gli ho detto tu sei un truffatore Ehm Come si Il mio amico l'aveva cercato su google Traduttore Truffatore Ladro Vai 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 Non ci voglio credere Attento Ehm In realtà ho fatto una cazzata però Comunque a me va più che bene per quello che è successo Stavo per buttare in porta però sono scarso manco nella nostra porta riesco Ehm Ehm Tipo Ehm Tipo No raga Avevo tolto il tipo con la fennec ma neanche Niente Raga non mi rispondono Trade Trade fennec please No you are gay Ma co No 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 Come no Sta scrivendo eh Fra non abbiamo uno fermo che più scrive 3.000 credit Cioè vuole 3 Gli do una roba che costa 3.000 credit Cioè Dio Ah Come si deve formula 1 Agli iscritti Tipo ti do la formula 1 La F1 Per la fennec Com'è Ma che me do Tipo i tu mi dai la fennec io ti do la formula 1 You give me You give me fennec Come si dice c'è io I'm Oh non è entrata Fisica fisica inutile Bella Cioè io gli dico tipo Cioè io gli dico tipo You give me fennec A virgola Cioè non ho cosa gli devo scrivere i e io ti do la F1 Vai 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 Oh ma li fregano tutti e tutti me li fregano i tur Vai Sto giocando 10 minuti senza il turbo Da ma che sfiga Raga anche prima abbiamo perso per così e per questa roba Golla gli ultimi due secondi Eeeh che parata Tra yard Vabbè manco vado Raga la finisco così Dai Potevamo segnare Dal contro Iscrivo Come si scrive io ti do la formula 1 io Come faccio Non so come si scrive io I'm No E l'altro che c'ho la fennec Ah ok I'm Vi dico ok Aspetta I'm Give You You Give You Give You Give No No ma perchè Tozzo Che buono ma sei tu leader Ma perchè devi avviare altre partite Ma io non ho avviato niente Ma perchè partono le partite a caso a caso poi a caso C'è ancora quella con la fennec No Si è in partita con noi Non è E' tipo con la fennec E' vero Raga Raga Ma dai Dude C'è uno che si chiama dude un po' Mini is worth Cos'è? 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 C'è poi cercare su google gioco io intanto Ti prego cerca su google traduttore intanto gioco intanto gioco io tranquillo Vai Vai adesso inizia a cercare inizia a cercare Ma io tu Ma per co Gioco io tranquillo Sì va bene Non c'è per gli elogi Google traduttore Devi andare tu per il contrasto Ma va Asp One Second Contro Sponzo Aspetta un secondo Un secondo Allora Traduttore google Raga io non so l'inglese sono tutto schif In inglese io Google traduttore Tutto lui segno Da inglese italiano Mine 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 Is W Orth H W Orth H Come vedere More No Ah Significa il mio vale di più Il mio vale di più Come faccio a scrivergli tu cosa vuoi Cosa vuoi? Qua Oh sai devi invitare un ingruttore a parlare E io c'è aspetta vado io il contrasto faccio contrasto almeno non mi spella la partita perché sto fermo questo qua ancora google traduttore google traduttore vieni a me hanno segnato no aspetta da inglese faccio da italiano a inglese tu a parte mille crediti no cosa vuoi cosa vuoi per la fennec cosa vuoi per la fennec what do you want for the fennec mi ha spuso la partita fa niente beh rientra cerca di rientrare vabbè fa niente dopo gli spentato gli mando la richiesta eccolo questo qua isolizza il profilo giocatore gli ho mandato la richiesta io intanto what do you want ma poi quando vuoi entrare glielo scrivo per forza ha acquittato uno sono io contro quello con la fennec no mi sto vincendo 4 a 0 bene cioè praticamente lui vuole 3000 crediti per la fennec sapete qual è il piccolo problema che io ho 100 crediti eh quello potrebbe essere un piccolo problema ma giusto piccolino eh manco troppo gra allora ragazzi io questa esplosione la voglio adesso capito e anche questa e anche questa adesso le voglio adesso vediamo questa ma queste mi fanno schifo proprio io voglio ragazzi voglio subito questa e queste ah e pure 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 questo no oddio questo qua mancano solo 50 per prenderlo cosa quando avete finito me lo dite mancano 50 secondi ok io sono già pronto a scrivere che cosa vuoi per la fennec però tu devi uscire dal gruppo e io esco dal gruppo perché sennò magari invito a te allo scambio esco dal gruppo e lo invito a me e e mi metto anche la ferrari magari gli piace cioè io per questo io questo scambio cioè in realtà io le scambierei tutte perché tutti vogliono scambiarla fennec perché è fortissima 5 a 0 hai vinto manca 16 secondi se sto qua mi accettasse la gocchia di riusco mi amicizia no io li ho già mandata c'ha 43 giochi sto qua c'ha pure ah vabbè per se c'è un plot per forza c'è pure forza c'è anche minecraft c'è anche gta è tipo uscito lui si però con la fennec oh io gliel'ho mandata ti prego dimmi che me l'accetta ti prego ti prego ti prego dimmi che mi dà la fennec roga sarebbe il video decisivo dove finalmente trovo la fennec ti prego dimmi che per che non me lo scerti tanto buono segui il messaggio ma perché non viene quanto lo odio quanto lo odio questo buono madonna perché eh cosa vuoi tanto la fennec tu non ce l'hai eh vabbè eh vabbè eh vabbè eh vabbè eh vabbè 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 niente ragazzi niente veniamo in una canestra e basta tozzo avvio una canestra tozzo oh l'ho già fatto ok ragazzi se qualcuno di voi lo fennec scrivete nei commenti perché tipo se me la dà mi fa il piacere mamma datemela vi sparo datemela se non me la dà vi sparo vi do la ferrari vi do questa qua che sto usando adesso tutte ve le do go vi do anche la mia forza sulla modalità canestro mi ha dato più 20 punti gol aereo vado ma doveva andare lei ma doveva andare lei non è andato più storto tanto c'è il tipo tutto sdrizzo ah è vero tozzo raga non la conosce tozzo quella roba dello sdrizzo vai tiri però raga siamo scarsi in questa modalità io ho il top o almeno c'è io un gol ma l'ho fatto solo perché non lo so raga mi sa che è un po' gol per noi no 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 oh basta vamparmi hai dato una mano ma non è vero ma basta basta vada vada la piazza più alta mamma mia palla al centro ma cosa al centro dove ah sì al centro campo vai mi ha dato il tiro ma perché mi ha dato il tiro in porta quale porta poi ok e poi se vedi guarda che io c'ho un gol ma dove sto gol tozzo cosa hai fatto perché dal gol il tiro in porta dovrebbe scrivere canestro perché non puoi fare parata in questa modalità non si possono fare basta vamparmi da dove sei venuto tu poi è gol no che bello ma perché raga mi è arrivato a 100 di busto così ma perché ha rimbalzato male è gol ma che culo tu complimenti per te l'alzi l'alzi te lo stavo per fregare tantissimo eh però la gente urla info guarda guarda come te la sto fregando ma per un pelo mamini vado io sono sfigato come una ameba come una ameba devo sì vabbè sto qua mi è fregato il turbo ma anche lui sa come ha fatto a fottere raga ho fatto un volo un po' un po' ubriaco ma ehi perché mi devono esplodere quando provo a fregarti i gol ma nessuno di sti qua c'ha la fennec no sono due a buttare sono due a buttarti io lo scrivo lo stesso tra i fanno qui vado hai visto come sono andato forte ma le c'è tutte due in realtà mi è stato tutto il mondo ma ehi ma sono scemi uno connessione persa siamo due v uno vai non così raga era l'unico volta che potevo prendermi una connec invece in alta vabbè raga per oggi il video è tutto scrivete qualche no le stavate la campanellina per rimanere sempre a giornate sui miei prossimi video e niente oggi si va al liber lasciate un piace scrivete nei commenti che gioco dovrei postare la prossima volta se qualcuno ha la fennec lo scriva se no lo vengo a casa giuro che vi trovo in qualche modo lo vengo a casa esatto lo vengo a casa raga italiano corregiuto se lo dite alla prof di italiano 10 10 senza uno però e quindi raga il vostro inferno è tutto ciao ciao